Il Comune di Teramo ha un lavoro per cercare di trovare i fondi necessari per intervenire sulla drammatica situazione delle strade comunali, dove la mancata manutenzione negli anni ha trasformato molte vie cittadini in groviere. Una situazione che non ha mai complice anche il maltempo interessa l'intero territorio comunale e a cui l'amministrazione d'Alberto in primavera intende dare una prima risposta con un piano asfalti da un milione di euro. A tanto ammonte infatti le risorse che saranno inserite nel prossimo bilancio, con il Comune che molto probabilmente procederà all'accensore di un mutuo con contestuale gara per l'affinamento dei lavori. È innegabile che il problema degli asfalti è il problema numero uno, il problema dei problemi oramai le strade sono tutte ridotte a colabrodo e dobbiamo immaginare di dare risposte ai cittadini e garantire la loro sicurezza. Stiamo verificando tutto il territorio, cercando di dare risposte un po' in tutte, sia nella città che poi anche nelle frazioni. Purtroppo le risorse necessarie per dare risposte a tutte le situazioni, ci vorrebbero risorse enormi, ma sicuramente noi dobbiamo impegnare una somma discreta per cercare di tambonare le situazioni più emergenziali e tranquillizzare anche i cittadini perché in questo momento, dopo il periodo delle piogge, della neve, emergono situazioni disastrose di strade ridotte a colabrodo e che non garantiscono nemmeno la sicurezza dei cittadini. Le tempistiche, secondo lei, quali potrebbero essere? Adesso ci dobbiamo attivare per disporre proprio un piano, per capire sulle somme che intendiamo spendere, quindi fare un'operazione a livello di CAD, di verificare i metri che possiamo trattare, quindi l'ufficio adesso da oggi in poi si deve impegnare per preparare un piano degli asfalti, ripeto, cercando di dare risposte un po' a tutte le situazioni più gravi. Si parla di un milione di euro? Il minimo è indispensabile un milione di euro, poi se sarà 800 mila, però ecco, un milione di euro sarebbe la cifra almeno per affrontare in maniera seria la problematica degli asfalti.